Ciao amici di Gonzo Tennis, bentornati. Oggi con me, oltre a Federico Ferrero, abbiamo il piacere di avere ospite Antonio Costanzo. Ciao Antonio, grazie. Ciao Federico, ciao a tutti. Federichi. Federichi, esatto. Non sapevo se si potesse usare come declinazione la plurale. Non abbiamo encontrato una soluzione. Lui vuole chiamarmi Ferrero, ma io dal liceo che non mi sento chiamare Ferrero, la trovo abbastanza per l'altro. A me piace molto. Allora, oggi sarà una puntata un po' particolare, perché Federico mi ha parlato benissimo di te, e conoscendoli, insomma, non è esattamente il numero uno in quanto a complimenti. E invece con te vedo che proprio va di manica larga, e ho sentito in modo privato da lui, e ho anche letto nella bella intervista che un paio di anni fa Federico ti ha fatto. E quindi, prima di partire, vorrei fare insolitamente la prima domanda, non all'ospite, ma al mio partner Ferrero. E voglio chiederti, Fede, come mai tu mi hai parlato così bene di Antonio, che faceva le telecronache e non le fa più dal 2006, se non sbaglio, e in cosa era un numero uno? Eh no, ho mai già risposto. Antonio, mettiti le dita nelle orecchie, perché sennò davvero sembra un fiano di corte. Antonio era semplicemente il più bravo di tutti. Punto. Si assume la responsabilità di quello che ha detto. No, ma nel senso, cioè, non è che era chiaro a chiunque lo ascoltasse. Aveva, secondo me, ma io toglierei anche secondo me, aveva una combinazione unica di cultura, passione per lo sport, ritmo nelle telecronache, preparazione nelle telecronache. Lui si leggeva, anche perché, non so se sei madrelingua francese o comunque sì, quindi lui si leggeva giustamente l'equipe, che è sempre stato il miglior quotidiano possibile per informarsi sul tennis, perché comunque, come poi anche Antonio racconterà, che ne ha ben più di me da raccontare di questa avventura, insomma, Eurosport è sempre stata una televisione un po', che ha sempre investito tanto nei diritti, ma un po' pionieristica, magari invece nella produzione, no? E quindi toccava fare poche trasferte e spesso lavorare da soli. E quindi ti dovevi informare per conto tuo e trascinare nella telecronache che magari durava 12 ore. E un conto è dire bel dritto 15-0, 15 pari, un conto invece farti rimanere incollato alla partita, come Antonio riusciva a fare, era informatissimo su tutto. Lo stesso Lorenzo Cazzaniga, con cui avevo iniziato a commentare, che aveva fatto un po' la spalla con Antonio, mi diceva, Antonio è uno che non ti dice, che ne so io, Andriev si è infortunato. Ti dice, Andriev si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra e probabilmente ne avrà per due settimane, perderà i punti del torneo di Montreal. Sono due cose un po' diverse. Da vecchio telecronista, anch'io, quasi pensionato, posso anche dirti, anche se dici si è fatto male, punto, non è che a casa ti chiami e ti dicono no, non mi hai detto dove si è fatto male. State alla tua voglia di lavorare, anche di sbatterti per dire qualcosa in più che non sei obbligato a dire, ma che fa di te un professionista migliore rispetto agli altri. Dopodiché, Antonio, io l'ho ascoltato per tantissimo tempo, e mi legano a lui anche ricordi di telecronache spettacolari, di match incredibili che si sono giocate negli anni 2000. E poi, un'ultima cosa, poi mi taccio, che non so perché, ma un giorno mi chiamò e mi disse vieni perché abbiamo bisogno di rinforzare la squadra dei telecronisti e ti faccio fare un colloquio. Io al primo colloquio non andai dicendogli che ero al mare, e mi immagino la faccia di Antonio, se sei al mare, vieni a Milano, poi torni al mare, qual è il problema? In realtà io non lo volevo fare quel colloquio perché non mi sentivo assolutamente tagliato per il ruolo di telecronista. Fissammo un secondo colloquio, che sicuramente Antonio non ricorda, durante il quale io parlai con Bruno Bogarelli, che mi faceva domande del tipo, esperienza in radio? No. Esperienza in tv? No. Altri tipi di esperienze, radio, simile? No. A un certo punto Bogarelli si gira verso Antonio, che nel frattempo ovviamente stava già facendo altre 18 cose, gli orari, i cosi, che lui chiamava il sudoku, faceva i turni di tutti, dice, tanta persone, alza gli occhi dal monitor e gli dice tranquillo Bruno, questo è bravo, va bene. E Bogarelli dice, se va bene ad Antonio vuol dire che va bene, sei preso. Sai che non me lo ricordavo, come detto tu, non mi ricordavo assolutamente di quella... Vabbè, basta, ho finito questa rotta, adesso possiamo proseguire. Confermi tutto Antonio? No, perché non me lo ricordo. E poi, come ho detto prima, cercando di interrompere, Federico si assume la responsabilità di quello che ha detto. Ma al di là degli scherzi, grazie mille per le parole, Federico, ci siamo conosciuti tanti e tanti anni fa, proprio a Tennis Italiano, ancora prima, appunto, è stato lì la connessione avvenuta a Tennis Italiano, con Lorenzo Cazzaniga, che già commentava il tennis insieme a me, e appunto poi, come ha detto lui, avevamo bisogno di rinforzi a Eurosport, e gli ho chiesto di raggiungerci, di raggiungerci, di aggiungersi alla squadra, cosa che ha fatto suo malgrado, a quanto sempre. Senti, passiamo invece alla domanda un po' scontata. Io ogni volta che ho sentito parlare di te, ne ho sentito parlare appunto in termini di, è stato il mio mentore, ha smesso tantissimi anni fa, quindi io, non conoscendoti, credevo tu avessi un'età molto più avanzata di quella che in realtà hai. Il tutto perché hai smesso di fare delle cronache a poco più di essere trentenne, e questa è una cosa molto strana. Come mai? Allora, intanto ho 50 anni appena compiuti quest'anno, quindi ho passato una soglia importante. È vero, ho smesso a 33 anni, 33-34 anni. L'ultima telecronica importante è stato il Mondiale di Atletica del 2007, quindi avevo 34 anni, essendo io del 73. Ho smesso perché avevo voglia di fare altro, perché avevo, durante il periodo di Eurosport, non ho fatto soltanto il giornalista in senso stretto, il commentatore, il teleconista in senso stretto, ho fatto anche, diciamo, il dirigente, il manager, perché Eurosport all'inizio degli anni 2000, proprio 2000, 2001, 2002, ha deciso di lanciare anche altri prodotti del mondo Eurosport in Italia, in particolare Eurosport News, il sito internet, e poi Eurosport 2. E quindi io ho cominciato ad occuparmi della gestione e del lancio di questi canali, e quindi ho scoperto il mondo, diciamo, degli affari, in senso lato, o quantomeno il mondo del manageriale. E mi piaceva, ho capito che mi piaceva, mi divertiva fare quel tipo di mestiere. Continuava a piacermi molto anche fare il teleconista, cosa che ho continuato a fare in parallelo. Poi c'è stato il periodo del 2003-2004, quando abbiamo concepito, costruito e lanciato Sport Italia, che faceva parte della famiglia allargata di Eurosport, perché il proprietario di Eurosport, TF1, era anche il coeditore, diciamo, di Sport Italia, quindi era un pacchetto unico, quello che produceva in Italia Eurosport e Sport Italia. E quella fu un'avventura stupenda, bellissima per me, perché dovemmo concepire, creare un canale sportivo da zero. Quindi un'avventura incredibile, per la quale non mi sentivo assolutamente tagliato. Insieme ad altre persone lo abbiamo fatto, abbiamo lanciato il canale e anche lì ho fatto tutto quel lavoro di gestione e manageriale che avevo iniziato con Eurosport. Fatto sta che sono arrivato a metà del 2006 che sentivo un po' di stanchezza, avevo voglia di fare qualcos'altro, non mi vedevo a fare il teleconista per tutta la vita, a fare il giornalista per tutta la vita e avevo capito che mi piaceva fare il manager e quindi ho detto è il momento di provarci, è il momento di cambiare. Ho avuto un'opportunità di andare nel mondo degli affari in senso più lato e ho deciso di prendere la palla al balzo. Avevo iniziato molto presto perché a 25 anni ho fatto le mie prime telecroniche. Ho avuto la fortuna in quegli otto anni di commentare tutto quello che chi fa questo mestiere può sognare perché ho commentato le Olimpiadi, ho commentato i mondiali di atletica, ho commentato i tornei dello Slam, ho commentato un sacco di sport diversi. Insomma, avevo fatto un po' il giro, avrei potuto continuare, ho semplicemente fatto una scelta diversa. Antonio, secondo me tu meglio di tutti puoi raccontare qual è stato e qual era lo spirito di Eurosport. Tu sei sempre stato a Eurosport, sei diventato proprio anche un simbolo della versione italiana, che è appunto una televisione un po' strana anche da raccontare al pubblico italiano, perché è una televisione non italiana che trasmetteva grandi eventi e che però aveva appunto da un lato una dotazione di diritti, di eventi di primo livello. Dall'altra invece le difficoltà di una produzione che insomma non poteva contare, io ho questo ricordo personale, sicuramente tu ne hai più di me, quando si andava Roland Garros, io ricordo la nostra cabina, io che mi dovevo portare il codec al posto del bagaglio a mano, fare io i collegamenti con la chicca, ti ricordi la mitica chicca al telefono, chicca non funziona niente, il cavetto se spelate, poi ti affacciavi nella cabina della Rai e c'erano 18 persone, la segretaria di produzione che portava il caffè con i croissani, il tecnico che stava lì tutto il giorno a controllare i livelli, avevano tutta un'altra serie di dotazioni, ma poi però alla fine probabilmente la differenza la faceva la passione e la competenza del telecronista, tu insomma tu hai fatto veramente la one man band per tanti anni nel tennis, hai commentato tantissimo anche da solo, quindi ci racconti un po' questa tua esperienza. Sì, allora è stata una televisione pioneristica intanto, perché è stata la prima versione europea, e forse ancora oggi l'unica, di ESPN. ESPN negli Stati Uniti aveva segnato un'epoca, perché è stata la prima televisione a dedicarsi completamente al mondo dello sport. Eurosport ha cercato di replicare quel tipo di modello in Europa con una difficoltà molto importante che ESPN non aveva, quella della molteplicità delle lingue. In Europa Eurosport si trovava a dover offrire un prodotto o in una lingua, in inglese, oppure in X lingue man mano che espandeva il proprio bacino d'utenza. Decisi di fare la seconda cosa, quindi nei paesi dove entrava, decideva di... Entrava vuol dire creava una struttura, dava un servizio nella lingua locale, come è stato il caso in Italia a partire dal 99, fine 98, inizio 99. Negli altri paesi si ascoltava Eurosport in lingua inglese, io per anni ho ascoltato Eurosport in lingua inglese. La forza di Eurosport era che trasmetteva tutto quello che gli altri non trasmettevano. Le reti tradizionali, perché parliamo dell'inizio della televisione via cavo e via satellite, quindi erano i primissimi anni, parliamo degli anni di stream, di tele più e poi di Sky, ma Sky è arrivata quando Eurosport era già entrata in Italia. In 2003. Esatto, dalla fusione di stream e di tele più. Negli anni precedenti le televisioni che si occupavano di sport si concentravano sul calcio, come era abbastanza intuitivo e come ancora oggi, poi molti fanno. C'era un po' di pugilato, perché era l'epoca del grande pugilato, in particolare con Mike Tyson. C'erano alcuni tornei di tennis che venivano trasmessi, ma il grosso non era visibile in Italia se non con grandi difficoltà. Eurosport aveva fatto questo passo molto importante, in particolare con un accordo molto strutturato con il Comitato Olimpico Internazionale, per cui aveva i diritti dello sport che gli altri non facevano vedere, ma parliamo di grandissimi eventi. Come citavo prima, i mondiali di atletica, anche se quelli li facevano vedere anche in Italia la RAI, ma i mondiali di tutti gli sport diciamo olimpici che al di fuori delle Olimpiadi facevano fatica a trovare spazio e soprattutto una continuità durante l'anno che nessun altro poteva garantire. Facendo 24 ore su 24 di sport potevano permettersi di fare 3, 4, 5, 6, 7 ore di tennis al pomeriggio, un mercoledì pomeriggio con il torneo di Linz. Non era un problema, ma anzi avevano bisogno di contenuti per riempire il tutto. La difficoltà data dalla molteplicità dalle lingue dava anche un problema in termini economici, perché voleva dire moltiplicare le strutture, moltiplicare gli investimenti. E questo, come accennava Federico, ha fatto sì che alla fine si commentasse quasi sempre da studio. Noi eravamo in un piccolo studio di due metri per uno, con dei piccoli televisori grandi quanto più o meno 15 pollici, da cui commentavamo la partita. Quindi vedevamo quello che vedeva la gente da casa semplicemente con qualche secondo di anticipo. Semplicemente peggio. Esatto, con qualche secondo d'anticipo. E poi avevamo la fortuna ogni tanto di andare sul posto. Facciamo alcune telecroniche, alcuni eventi dal posto. Roland Garros è sicuramente stato uno dei primissimi. I mondiali d'atletica li facevamo dal posto. a qualche altro evento siamo riusciti ad organizzarlo. Però erano assolutamente alla minoranza, forse il 5% di tutto quello che veniva trasmesso, forse, di tutto quello che veniva trasmesso durante l'anno. Però, questo io, come dire, penso e voglio pensare che non abbia influito negli anni sulla qualità del commento. Perché, come dicevi tu Federico, alla fine la differenza la fa la passione. La passione e poi la capacità tecnica, certo, la volontà, la voglia di studiare, la voglia di dare meglio di sedi, la professionalità. Però, è la passione poi che ti fa stare 12 ore di fila in cabina a commentare l'Australian Open di notte con il fuso orario. Cosa che io ho fatto per più edizioni dell'Australian Open invertendo i miei ritmi di vita. Andavo a letto alle 2, alle 3, alle 4 del pomeriggio, mi svegliavo alle 11 di sera, andavo a Eurosport mangiavo prima di andare al mio pranzo, mangiavo per entrare in cabina e poi mangiavo verso le 6, le 7 del mattino che era la mia cena prima di continuare le telecronache e l'ho fatto per un po' di tempo e non lo dico veramente, assolutamente per, come dire, per darmi un tono o per lamentarmi di qualcosa che mi è pesato nel tempo. Anzi, io ero felice come una Pasqua di poter commentare tutto l'Australian Open di poterlo fare io, di poter passare le ore e le ore in cabina perché era quello che facevo prima di commentare stando a casa davanti alla televisione e me lo guardavo, quindi finalmente ero io che potevo parlare e non erano gli altri che me lo raccontavano. Qual è il tuo record di ore consecutive? L'avevo segnato una volta, credo sia un 15, proprio una Stradian Open. 15? Sì, credo i 15 perché iniziava, la Stradian Open iniziava alle, a l'una di notte che erano le 10 del mattino, no, le 11, no, a mezzanotte iniziava, a mezzanotte o a luna, non mi ricordo, le 10, le 11 del mattino in Australia e con la sessione notturna, se la sessione notturna era lunga, andavi avanti fino alle 4 del pomeriggio, 4-5 del pomeriggio che erano l'una del mattino, l'una del due del mattino in Australia. Madonna, siamo a un commento riguardo. Pause veloci per andare in bagno e poi via. Sì, mi ricordo Lorenzo che mi raccontava quando lui era inviato di Tennis Italiano a Parigi, ogni tanto tu lo chiamavi, gli chiedevi di fare un piccolo aggiornamento dai campi, così, o di fare un set, in modo che tu avessi il tempo di fare una pausa fisiologica. Sì, si mangiava in cabina, non sono l'unico, non sono l'unico che aveva fatto queste cose, se parli con un po' i pionieri delle telecroniche, quelli che erano commentati negli anni 80-90 ti raccontano storie simili, bottigliette. Galeazzi e Pananta che si facevano con le uova strapazzate in cabina e poi si espiravano pesantemente nel microfono, così si ricordano. Senti, parlando di spalle, abbiamo detto che Eurosport si distingueva per essere questa palestra della professione che costringendoti a lavorare da solo appunto ti faceva sì che tu fossi tenuto in qualche modo a cavartela, però tu hai avuto anche da un certo punto in poi delle spalle sia nel tennis sia in altre discipline. Mi dici quelle con cui ti sei trovato meglio e perché? Sì, le ho avute sia nel tennis che in altre discipline e la mancanza di spalle è stata un po' più una caratteristica del tennis che di altre discipline nel senso che siccome il tennis avevamo tantissime tantissime ore era difficile giustificare sul piano economico una spalla tutto il tempo e quindi ogni tanto facevamo alcuni tornei o dei periodi con una spalla di sicuramente Silvia Farina Gianluca Pozzi che era venuto ancora in cabina era venuto Forse Renzo Furlano aveva fatto una prova Renzo Furlano aveva fatto qualche teleconaca anche lui però non riuscivamo a dare continuità in altri sport e poi Andrea adesso ci arrivo e poi invece in altri sport per esempio l'atletica dove facevamo un numero minore di ore perché gli eventi erano pochi durante l'anno lì riuscivamo ad avere una spalla fissa perché in quelle ore potevamo pagare entrambi sia il commentatore che la spalla fissa tornando alla tua domanda le spalle con cui mi sono trovato meglio senza ombra di dubbio Andrea per il tennis Andrea Godenzi per il tennis e Giorgio Rondelli nell'atletica con cui ho fatto praticamente tutti gli anni dell'atletica tranne il primissimo anno perché lui era andato ai mondiali di Sivillian nel 99 come tecnico e quindi non poteva essere in cabina con me li feci con Eddie Otoz che era stato olimpionico di saltostacoli era lui che ti chiedeva se tu ti commuovevi sul serio se facevi finta? sì me lo chiese lui me lo chiese proprio Otoz durante una pausa ai mondiali del 99 dopo non mi ricordo quale gara in cui insomma grande entusiasmo forse il record del mondo di Johnson sui 400 piani quando facevo il record del mondo in 43-18 avevo le lacrime agli occhi la voce probabilmente un po' un po' rotta e durante la pausa durante la pubblicità mi chiese ma fai finta o ti commuovi davvero? e io trovavo una domanda un po' bizzarra un po' strana e mi dico no Eddie è davvero così piangevo quando mi commuovevo quando lo guardavo in televisione e ancora oggi mi commuovo lo sport è talmente cioè lo sport in diretta è talmente forte come emozione se sei appassionato del tema è difficile anche se anche se lo fai per professione è difficile non commuoversi per me l'ho sempre stato io credo che esatto ci sia una distinzione fondamentale tra l'enfasi posticcia e l'entusiasmo sono due cose ben diverse oggi temo che stia prendendo piede un po' più la prima che non la seconda e rispetto a quello che dicevi Antonio ti volevo chiedere questo adesso io non so tu con quanta continuità abbia seguito stia seguendo lo sport in televisione in tennis soprattutto però un'altra moda ormai invalsa è quella appunto della spalla tecnica che adesso ha cambiato nome perché spalla non fa figo talent quindi la regola è ci deve essere un ex giocatore possibilmente forte punto poi quello che dice no tanto è un ex giocatore quindi va bene io personalmente anche ho condotto qualche battaglia persa peraltro quasi sempre nel tentativo di spiegare la mia posizione che non so se collimi con la tua me lo dirai che non è necessariamente un giocatore che è stato forte e altrettanto bravo in cabina di commento perché è vero che sicuramente non può non conoscere la materia visto che è stato il suo lavoro ma una cosa è farla una cosa è spiegarla e trasmetterla ma certamente è così come informarsi anche ma certo ma così come non è detto che un ex campione sia anche un bravo un bravo coach un bravo allenatore per esempio no assolutamente quello sono totalmente d'accordo cioè sono due cose distinte è vero che se puoi trovare se trovi qualcuno che è stato un ex giocatore che è anche bravo che riesce a capire e a imparare un po' il mestiere del teleconista e del racconto ha un valore aggiunto perché ti racconta l'esperienza vissuta in prima persona l'esperienza sul campo io mi ricordo quando Andrea a Gaudenze ha cominciato con noi è stata una parentesi di tre anni anche lui nella sua vita professionale poi anche lui è andato via ma lui era fresco di ritiro quindi quando parlava di Federer quando parlava di Djokovic quando parlava dei giocatori ti raccontava di loro ti raccontava di una di un'esperienza vissuta poco tempo prima e ci sono anche esempi poi di ex giocatori che tutt'oggi secondo me nonostante abbiano smesso tanti tanti anni fa rimangono dei validissimi commentatori in mente Bertolucci secondo me eccellente commentatore a me piace molto Lea Pericoli era stata ai tempi non scordiamoci che Lea Pericoli è stata un po' una rivoluzione nel mondo della televisione e nel mondo delle teleconiche sportive intanto è stata la prima donna in Italia a fare teleconiche di sport negli anni 80 su Tele Monte Carlo con uno stile fantastico unico che era il suo con una eleganza incredibile e raccontando il tennis in un modo diverso che poi potesse piacere o meno un altro discorso ma aveva innovato nel modo di raccontare il tennis e Lea aveva smesso da tanto tempo quindi assolutamente non è una questione di sei stato un campione e quanti slimm hai vinto allora sarai un bravo teleconista assolutamente no Meckler è molto bravo altri ci hanno provato non sono lo stesso livello Scusami posso un attimo agganciarmi velocemente visto che stiamo parlando di spalle tecniche quali sono quelle che ti hanno ispirato a chi hai insomma da chi hai provato a prendere esempio a chi hai provato a tingere non so se ho provato ad attingere da una spalla o da più spalle tecniche più in generale da chi commentava nel senso io sono cresciuto con Clerice Tommani che credo siano stati come dire i maestri la scuola di tutti quelli più o meno della mia età che hanno fatto poi telecroniche perché insieme funzionavano benissimo da soli no insieme erano eccezionali quando capitava che dovessero commentare degli spezzoni di partita perché uno dei due era impegnato in qualcos'altro da soli da mio punto di vista non funzionavano è vero io mi ricordo delle telecroniche di Rino qualche telecronica dell'ultimo periodo di Rino con Paolo Bertolucci che è pure molto bravo e secondo me no non funzionavano non funzionavano quindi loro due insieme fantastici la Pericoli a me piaceva moltissimo Gattai Bruno Gattai che era un grandissimo teleconista di sci mi piaceva tantissimo anche lui ecco quello credo che ho cercato di prendere dagli esempi che avevo nelle orecchie che erano quelli che ascoltavo guardando la televisione era la capacità di raccontare oltre quello che si vedeva in televisione cioè ci sono diversi modi di fare telecroniche puoi semplicemente raccontare quello che gli altri vedono ma diventa una radiocronaca con le immagini puoi andare molto nel tecnico cosa che secondo me oggi viene fatta e troppo per i miei gusti personali oggi spesso e non non parlo del tennis in modo specifico ma un po' tutti gli sport si tende ad entrare molto nel tecnico e che va bene in parte perché ci sono degli appassionati che guardano che sanno tutto che sanno tantissimo e che apprezzano entrare molto nel tecnico però non bisogna scordarsi che ci sono anche tante persone che non sono specialisti di quello che guardano e ci sono anche tanti giovani che magari iniziano ad appassionarsi ad uno sport che si avvicinano quindi anche alle telecroniche di uno sport e per forza di cose non possono sapere tutto quindi ho sempre pensato che cercare il bilanciamento fra la parte tecnica e la parte un po' più leggera di racconto di storia anche storia personale dei protagonisti ma anche storia dello sport fosse una chiave per rendere la telecronica più interessante e meno monotona e come consideri a livello qualitativo la narrazione sportiva di oggi in particolare dell'orticello nostro che è il tennis quello che trattiamo noi la ritengo molto buona perché continuo a seguire il tennis e mi piace quello che sento ritorno a quello che ho appena detto dal mio punto di vista per il mio gusto personale a volte sia su sky che su rosport che su per tennis entrano troppo sul tecnico passano troppo tempo a parlare di tecnica di tecnica e di tattica molto molto tattica a me dopo un po' annoia ma ripeto un gusto personale Senti sfruttando ora sei un manager no? sei molto attento immagino a quello che chiedono i clienti e nel caso del tennis gli appassionati sono diventati dei clienti secondo me c'è qualcosa che che secondo te il tennis dovrebbe fare dovrebbe porre in essere per non dico fidelizzare quelli che ci sono già ma per attirare nuovi potenziali clienti appunto ma da fuori prima hai parlato dei giovani secondo me potrebbero esserci delle mosse strategiche da fare per cercare di attirare un pubblico più giovane ce ne sono immagino tante e molti avranno più idee di me io propongo mi concentro su un punto che da fruitore ancora oggi di tennis mi rende la vita complicata che è la frammentazione dei diritti televisivi cioè per guardare per seguire tutto il tennis deve avere più abbonamenti devi passare da un canale all'altro devi passare da un parchetto all'altro ed è un problema che il tennis vive più di altri sport soprattutto di sport individuali poi magari ne parleremo del taglio ma è proprio quello su cui si sta uno degli aspetti su cui si sta concentrando Andrea Gaudenze come presidente dell'ATP cioè il tennis vive di una gestione fatta di sette teste perché ci sono i quattro torni dello slam che hanno un livello di autonomia più c'è l'ITF la WTA e l'ATP quindi ci sono sette enti che in un modo o nell'altro hanno una responsabilità sulla gestione del tennis il risultato è in modo molto pratico per quanto riguarda i diritti televisivi che c'è una fermentazione enorme se si riuscisse cosa su cui si sta lavorando a vendere i diritti in modo più unitario in primo luogo sarebbe più facile seguire e in secondo luogo aumenterebbe il valore del tennis come proposta di spettacolo per chi segue lo sport o ha davanti a sé una scelta ormai praticamente infinita quello è quello che io vorrei vedere come appassionato vorrei essere facilitato nel seguire il tennis l'ACP ha anche la sua cioè da ormai da qualche anno la sua piattaforma Tennis TV non credi che a lungo andare potrebbe essere quello il modo in cui distribuire il contenuto potrebbe essere il modo in cui si arriva ad una concentrazione dei diritti oppure qualcuno che offre una cifra tale che giustifichi darlo a qualcuno dare i diritti a qualcuno il problema è che oggi i diritti non possono essere venduti come unico pacchetto perché non c'è un accordo fra le parti e quindi anche se arrivasse Amazon Sky Eurosport chiunque con sul piatto una cifra che non si può rifiutare non è possibile raccogliere tutti i diritti in un'unica soluzione se qualcuno dice no se Webby non dice no io preferisco venderli separatamente continuerà a venderli separatamente un'altra cosa ti volevo chiedere a questo proposito rispetto a quando commentavi tu Antonio la maniera anche di fruire del prodotto tecnistico è cambiata perché la tecnologia adesso permette e anzi ha creato aspettative nel pubblico che prima erano impossibili anche solo da pensare comincia a tornare dello slam ci sono 22 campi e la gente vuole 22 campi quando Sky iniziò con l'interattività a proporne 6-8 sembrava anzi era avanguardia oggi ci si ramenta perché sono soltanto 6-8 e no io li voglio tutti a 22 perché sul campo 17 c'è Watanuki che gioca al Tiger del quarto io non posso perdere ho pagato e pretendo di vedere Watanuki ok in questo senso secondo te il ruolo del giornalista del telecronista che futuro potrà avere nel senso che non credi perché questa è una considerazione che sto facendo negli ultimi anni negli ultimi tempi che mentre una volta c'era una partita un commento un telecomando un divano un televisore no quello era un po' lo schema oggi c'è il ragazzo con lo smartphone che si scrolla gli highlights la partita avanti e indietro forse non sa neanche chi stia commentando e soprattutto clicca continuamente da un campo all'altro cioè secondo te c'è un futuro per una professione che rischia di disperdersi in questo mare di partite che quotidianamente si disputa e che ormai i clienti pretendono di vedere secondo me c'è perché vale sempre il famoso il famoso detto di Rino Tommasi preferisco un cattivo commento a nessun commento credo che sia ancora vero nel senso che una partita un evento sportivo senza telecronica per quanto semplice o banale possa essere diventa veramente dal mio punto di vista molto meno interessante perché o te la fai tu da solo la telecronica oppure soltanto le immagini con il rumore di fondo non sono non sono un granché e poi non scordiamoci che è vero quello che dici tu della dispersione della della multiplicità di offerta ma questo vale soprattutto all'inizio di un evento come un torneo sportivo man mano che vai verso le fasi finali si concentra l'attenzione anche degli appassionati sì qualcuno potrà ancora seguire un campo secondario per un singolo junior o per un doppio ma l'80% comincia a seguire i campi principali quindi si va verso la concentrazione dell'attenzione anche sui teleconisti che stanno fornendo il servizio io la frase di Rino la ricordavo e non ho mai non sono mai riuscito a decidere se sono d'accordo oppure no una cosa che ho sempre sospeso lì perché comunque insomma credo che possiamo anche avere ricordi e memorie simili di commenti atroci se ne sono sentiti e se ne sentono vabbè visto che sono cose molto vecchie quando Eurosport sbarcò in Italia si appoggiò alla RAI che mise qualche teleconista un po' così diciamo un po' in pensione o presi da altri sport con risultati rivedibili ricordo alcune telecronache per le quali avessi avuto il tasto solo effetti campo l'avrei schiacciato volentieri e devo dire onestamente che anche oggi mi succede qualche volta però evidentemente ho un approccio di serie io continuo a preferire magari a basso il volume magari lo tengo più basso però la voce di fondo comunque la preferisco ad avere soltanto i rumori di fondo quello che dicevi prima mi è venuto in mente un piccolo aneddoto quello che dicevi prima rispetto al fatto che una volta non c'era la scelta che c'è oggi quindi ti beccavi quello che la televisione quello che il canale televisione che stai seguendo ti proponeva Eurosport era in questo scenario perché soprattutto all'inizio poi ha cominciato ad aggiungere campi ma all'inizio c'era un segnale e tutti commentavano la stessa partita ovviamente c'erano due problemi il primo è che scontentavi tutti perché ogni paese voleva vedere le partite dei suoi giocatori e quindi c'erano liti continui che era il secondo problema anche fra non tanto i teleconisti ma i produttori dei diversi paesi perché spingevano per avere quella partita o quell'altra partita in funzione di chi sai come ci chiamavano appena te ne si è andato via Teleradvanska e mi ricordo di una volta che finimmo in una polemica con la federazione italiana di tennis all'epoca il responsabile della comunicazione era Baccini no all'epoca ha cambiato cosa ma è ancora lui sostanzialmente è ancora lui? non sapevo i fatti mi dicono di sì ok non sapevo perché non mi ricordo che anno fosse credo fosse l'open degli Stati Uniti giocava un'italiana potrebbe essere forse la pennetta un match di peso forse di finale insomma vado tutto a memoria con memoria che non mi appoggia che non mi dà sostegno ma però e noi non facciamo vedere quella partita ma facciamo vedere perché giocava sul campo numero uno forse e sul campo centrale una partita di non mi ricordo più chi e sulla rivista della federazione il mese seguente uscì un articolo da firma di Baccini nel quale criticava la politica di Eurosport che era uno scandalo che non avesse fatto vedere tutto quanto e al che io mi sentì in dovere di rispondere a quella a quella critica spiegando perché non era stato possibile perché bisognava contentare e quindi scontentare tutti quanti e Baccini poi mi rispose di nuovo chiuse lui la questione trattandomi un po' pesci in faccia devo dire strano e chiudendo la cosa quindi ho questo ricordo e poi non ho mai più avuto a che fare con lui quindi non posso per fortuna neanche io da un po' di anni ma ti assicuro che non è cambiato però sì però mi ricordo quella finì in una diatriba con la federazione per questo motivo perché non facciamo vedere una partita di un italiano Senti Antonio in chiusura volevo chiederti un tuo parere sul tennis di oggi se c'è qualcosa che ti piace di più e qualcosa che ti piace di meno rispetto a quello che commentavi tu mi piace tanto quanto quello maschile credo stia vivendo ancora un periodo d'oro nonostante il ritiro di Federer e il quasi ritiro di Nadal l'arrivo di Alcaraz con un tempismo eccezionale che ha compensato almeno in parte la partenza di Federer e il semiritiro di Nadal ci sono altri giovani che mi piacciono molto credo che si giochino a tennis benissimo mediamente certo un tennis diverso da quello degli anni 80 sicuramente anche in parte da quello degli anni 90 non si può più scendere a rete come si faceva allora l'attrezzatura e la tecnologia ha velocizzato molto il gioco a me continua a piacere tantissimo e invece non mi piace in questo momento il tennis femminile trovo che sia in un momento di stanca come è successo anche a quello maschile se vi ricordate alla fine all'inizio degli anni 2000 nella fase di transizione fra l'epoca Agassi-Sampas e quella di Federer e poi Nadal ci fu qualche anno dove si faticava a trovare uno, due o tre leader che veramente vincesero con continuità e come dire tenessero l'attenzione focalizzata su di loro c'era Roddick c'era Querten c'era Ferrero vincevano un po' a turno bellissimo tennis ma non c'era quella continuità di risultati ad altissimo livello che c'è stata prima e che poi c'è stata dopo il tennis femminile in questo momento negli ultimi 3-4 anni probabilmente sta vivendo qualcosa di simile con la fine dell'epoca delle Williams e di qualcun'altra sì c'è la Sviatech che ha vinto quattro slam però non è un personaggio come erano quelle giocatrici non so chi arriverà oggi c'è un c'è un media di età nel tennis femminile fra le prime 10 che non credo ci sia mai stata negli ultimi 20 anni cioè c'è una media di età molto alta quindi si aspetta l'arrivo delle giocatrici più giovani sicuramente tornerà in auge anche il tennis femminile una volta che si ripresenteranno alcuni personaggi come ci sono già stati in passato però a me il tennis continua a piacere tantissimo credo che continuasse uno spettacolo fantastico anche perché il tennis ha questa caratteristica che è abbastanza unica negli sport individuali dove c'è un legame molto stretto fra la parte fisica la parte tecnica la parte psicologica e dove la sfida il duello fra i due giocatori parlando dei singolari è quasi un corpo a corpo cioè quasi come un quasi come pugilato quasi come era Gary Kasparov che diceva che il tennis è il gioco degli scacchi messo a dimensione reale cioè quello che tu fai influenza direttamente quello che fa il tuo avversario e ci sono pochissimi sport dove questo viene sport individuali dove questo avviene e questo dal mio punto di vista mantiene un fascino per questo sport che è davvero unico Antonio io volevo ancora chiederti una cosa ed è questa tu hai sdoganato comunque sei arrivato nel periodo in cui è stata sdoganata la prima interattività con gli telespettatori cioè la mitica mail diretta a chioccio all'aerosport.com ti chiedo anzitutto quanto ha cambiato secondo te l'arrivo dell'interattività poi diventata social negli anni successivi il lavoro proprio del telecronista e il rapporto anche con gli utenti sapendo adesso il telecronista differenziale passato che lo spettatore ti può venire a pescare in tempo reale e quanto questo avrebbe influito secondo te anche secondo me la risposta è nulla sul fatto di esprimere pareri perché io ho fatto una chiacchierata con te qualche tempo fa nella quale non hai avuto problemi a dirmi tra Federer e Nadal quale fosse il tuo preferito cosa ne pensasti di Djokovic anzi se ce lo ripeti noi siamo solo che contenti ecco come ha cambiato e se l'ha cambiato in meglio in peggio secondo te il mestiere quando noi abbiamo iniziato a utilizzare l'email diretta a chiocciolosport.com era stato un tentativo fatto credo che se non ricordo male anche eratele più ancora all'epoca gli inizi di sky provarono anche loro con le email in diretta e all'inizio a me piaceva e piaceva credo anche ad altri teleconisti perché era il primo approccio il primo modulo la prima volta che avevamo un rapporto diretto con chi guardava da casa ed era stimolante perché da una parte permetteva in alcuni sport dove ci sono dei tempi un po' più lunghi dei tempi morti come anche nel tennis avviene di avere degli argomenti in più perché chi seguiva da casa proponeva degli argomenti faceva domande e banalmente ti costringeva a rispondere però ci siamo resi conto ci rendemmo conto all'epoca che ci eravamo fatti prendere la mano e c'erano telecroniche in cui passavamo la maggior parte del tempo a rispondere alle domande di chi stava a casa e quindi a un certo punto smettemmo di utilizzare le email in diretta mantenemmo il canale vivo quindi chi voleva poteva continuare a scrivere ma non lo utilizzavamo in botta e risposta in diretta semplicemente erano spunti che potevamo poi utilizzare durante le telecroniche e mi sembra che nel tempo sia la linea che è passata per tutti quanti cioè la telecronica non è la telecronica di un evento in diretta non è un forum per parlare con chi guarda da casa ma è un evento in diretta e quindi si segue l'evento in diretta quello che è cambiato molto da quando io facevo le telecroniche è l'arrivo dei social è la possibilità di un'interazione continua 24 ore su 24 con chi segue da casa io credo che ti avessi detto Federico quando parlavamo all'epoca se oggi dovessi fare le telecroniche ancora non credo poi magari dico una cosa non c'è la contropropa però non credo che utilizzerei i social li utilizzerei come fonte di informazione quello sì perché quello che i social hanno fatto è che hanno eliminato la figura del giornalista di fatto nell'interazione fra sportivo e appassionato si può direttamente sapere quello che fa uno sportivo attraverso i canali diretti dello sportivo quindi lo utilizzerei come fonte di informazione il ruolo del teleconista del giornalista è un ruolo di sintesi è un ruolo di narrazione che passa attraverso la conoscenza dei fatti di oggi la conoscenza dei fatti di ieri e la capacità di metterli insieme per crearne un racconto che diventi interessante al di là dell'informazione che Federico Ferreiro può ottenere comunque su cosa ha fatto ieri Berrettini perché basta guardare il suo account Instagram o il suo account Twitter però qualcuno che gli racconti l'insieme forse continua a fare una differenza io penso che ancora oggi continua a fare una differenza e poi volevi sapere chi preferivo farà cioè quali hanno le tue preferenze di quando commentavi e di oggi e se oggi ti sentiresti altrettanto libero nell'esprimerle sapendo che ti volerebbe addosso l'altra metà del mondo che non la pensa come te parto dall'ultima penso di sì voglio pensare di sì penso di sì perché l'ho sempre fatto l'ho sempre fatto cercando di mantenere il teleconista anche perché un teleconista non può avere una passione per un giocatore o per un altro l'importante è mantenere un'obiettività quando poi racconti le partite anche di quel personaggio per rispondere alla prima parte della domanda io preferivo Federer a Nadal quando Federer giocavo quanto a Nadal tifavo dentro di me per Federer per Federer quando perdeva con Nadal spero di aver comunque fatto delle teleconiche che sottolineassero la forza la grandezza la bravura di Nadal anche emozionandomi per quello che Nadal faceva nonostante sperassi che Federer vincisse così come preferivo Agassi a Sampras Connors rispetto a chiunque altro perché era il mio grande idolo d'infanzia e Djokovic perché non ti piace tanto? Djokovic non mi piace per il modo in cui gioca perché qui uso le parole di Panatta il più grande pallettario della storia fortissimo è fortissimo eccezionale incredibile però in termini di gioco preferisco mille volte Federer e preferisco anche Nadal e poi non mi è mai piaciuto come personaggio ho sempre trovato un po' quello che personaggio che forzava per cercare di essere simpatico a tutti quanti non riuscendoci e finendo per diventare un po' antipatico forse alla fine sarà il più vincente di tutti quello che aveva vinto di più penso che Nadal rimarrà forse il più forte e Federer il più grande e ragazzi non potete scrivergli perché forse ha un account su Instagram ma ci sono opere d'arte e quindi non ci sono racchette quindi non potete insultarlo sui social sentite noi completiamo il giro e ti abbiamo chiesto inizialmente come mai tu avessi smesso a 33 anni di fare delle cronache ci dice esattamente cosa fai oggi di cosa ti occupi e aggiungo una postilla alla domanda e cosa ti sei portato dietro del tuo essere telecronista giornalista sportivo se ti sei portato dietro qualcosa nel tuo lavoro nuovo prima domanda dopo aver fatto il telecronista giornalista ho fatto il dirigente d'azienda e l'imprenditore negli ultimi anni ho fatto l'imprenditore e dirigente dirigente dell'azienda che avevo cofondato insieme ad altre persone è un'azienda che abbiamo venduto due anni fa sono uscito da questa azienda a dicembre dell'anno scorso e sto per partire forse a breve con un nuovo progetto quindi un nuovo progetto imprenditoriale che cosa mi sono portato dietro dal mondo dei telecomi ma non ci vuoi dire in quale categoria merceologica ti sei mosso in questi anni ti sai per muovere negli ultimi allora dopo Eurosport ho lavorato per BWIN quindi gioco online scommesso sportive poker con Andrea con Andrea con Andrea per alcuni anni esatto con Andrea per alcuni anni io sono rimasto dieci anni Andrea è rimasto quattro cinque anni poi sono andato a Uber quindi trasporti e poi l'avventura imprenditoriale dirigenziale nel settore farmaceutico però specializzato nella cannabis per uso terapeutico per uso medico e adesso appunto una nuova avventura imprenditoriale in un settore che ancora non posso svelare perché non è ancora certo se ci avventuriamo o meno mantenga la riservatezza giustamente e cosa mi sono portato dietro diciamo a che cosa mi è servito fare il giornalista mi è servito a imparare ad esprimermi a comunicare con le persone quello che mi è spesso quando ho nella mia carriera dirigenziale e imprenditoriale quando ho avuto a che fare con investitori clienti ho fatto molte presentazioni in vita mia anche ho avuto a che fare con ministri con autorità con regolatori la capacità di sintesi e di esprimermi che credo mi abbia dato avrei fatto il lavoro di giornalista mi è stata molto molto utile e le emozioni del telefonismo sai che cosa mi è venuto in mente la capacità di girare la frittata cioè la capacità di a seconda dell'interlocutore che hai davanti dire le cose in un modo o in un altro di prendere la forma del bicchiere in cui vieni versato esatto e delle emozioni di una telecronaca come Agassi Blake 76 al quinto ti faccio questa domanda perché mi ricordo di avertela fatta qualche anno fa e la risposta mi era piaciuta moltissimo cioè che similitudine trovavi nella conclusione di un affare come invece con una prestazione sportiva che magari non avevi fatto in prima persona ma anche avevi commentato e tu mi avevi detto che c'era una specie di relazione se non ti ricordi te la dico e poi comparo la vocale no me la ricordo me la ricordo perché era molto viva nella mia memoria quando abbiamo venduto l'azienda due anni e mezzo fa due anni fa la sensazione che ho avuto la prima sensazione che ho avuto è stata quella di sollievo non di felicità per aver venduto l'azienda e aver quindi centrato un successo ma di sollievo per non aver fallito ed è una cosa che mi ricordo tantissimi sportivi mi raccontavano essere il loro pane quotidiano cioè spesso la vittoria in una partita in un torneo era come dire generava sollievo ancora prima di felicità e quello l'ho vissuto in prima persona nel mondo degli affari Fede hai capito cosa ti sei perso mentre giocavi ai videogame? io giocavo pochissimo ai videogame cosa facevi il tuo giorno? la settimana enigmistica? giocavo fisicamente a praticavo forte ah praticamente ok allora sei perdonato grazie Antonio è stato veramente bello riparlare con te rivederti risentirti anche per me grazie a voi a presto ciao ciao a presto ciao